Nelle prime ore di martedì mattina la Polizia di Stato di Enna, nell'ambito dell'operazione Fora, ha eseguito dieci misure cautelari a carico di altrettanti soggetti di Catania, indagati per la Commissione in concorso tra loro di reiterati furti di auto avvenuti nelle province di Enna, Caltanissetta, Messina, Catania e Siracusa tra i mesi di febbraio e aprile del 2022. Sono nove le persone che sono state sottoposte all'obbligo di dimora presso il capoluogo Etneo, mentre a uno è stato imposto l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. L'indagine della squadra mobile della questura di Enna ha avuto inizio nel febbraio dello scorso anno, quando nella provincia ennese sono ricominciati i furti di auto. L'attività investigativa ha permesso di scoprire l'esistenza di due diversi gruppi criminali che hanno agito in trasferta provenienti da Catania in grado di realizzare le azioni criminali in modo scientifico e professionale, sia in pieno giorno che di notte, riuscendo in pochissimo tempo ad aprire le vetture, metterle in moto e scappare via a bordo del mezzo rubato. Sono stati 19 i furti accertati nelle cinque province centro-orientali della Sicilia. In un'occasione gli uomini della squadra mobile di Enna hanno anche intercettato presso il casello autostradale di San Gregorio di Catania una jeep rubata a Taormina circa mezz'ora prima, al momento guidata da uno degli indagati. L'auto è stata poi restituita al proprietario. Grazie al consistente quadro indiziario, il giudice per le indagini preliminari di Enna ha emesso le dieci misure cautelari, riconoscendo la solidità del materiale probatorio raccolto. L'indagine per la sua valenza ultraprovinciale, svolta sotto l'attento coordinamento della Procura della Repubblica del Tribunale di Enna, si è avvalsa della collaborazione di gran parte delle questure della Sicilia.